Guarda più a tutti. Buonasera dalla Patrizia a Montegranaro. Oggi siamo all'intervista a Michael. Come giudichi questo Eurogoal di questa sera? A botte di culo. A botte di culo, perfetto. E un'altra domanda. Tu sei la parte nuova di questo club. Come ti trovi con questi nuovi compagni? Alla grande. Un bel gruppo, uniti, combatti. Mi trovo veramente bene. E dell'allenatore cosa ne pensi? Il minutaggio è giusto per te? Sì, rispetto a ogni decisione dell'allenatore. Perché è giusto che giochino tutti. Con questo è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao.